Purtroppo i pezzati piccoli sono già tutti presi. Ma venga, venga, venga. Lei è fortunato. Ne è rimasto uno doppio. Luminoso, confortevole e spaziosissimo. Prego, prego, prego. Contento? Bello, l'ingresso è bello. Ingresso, soggiorno pranzo, letto, cucinotte, waterclose ed è tutto qui. È il risultato di accurate ricerche a dimensione d'uomo. Guardi qua. Angolo cottura. Angolo intimo. Angolo doccia con relativo spogliatoio. Angolo ricreativo. Angolo tv. Angolo telefono con sediolino incorporato pronto. Angolo pranzo-cena. Con sedie ribaltabili. E l'angolo letto? A letto ci si va dopo cena, no? Eh sì. Guardi. Eccolo qua. Che ne dice, eh? È bello e funzionale. E poi è leggerissimo. Ecco fatto. E la finestra non c'è? Sorpassata. Venga, venga. Venga qua, guardi. Questa è l'aria calda. Qui c'è l'aria fredda. Questo è il deumidificatore. Che se ne fa della finestra? Beh, niente. Soddisfatto? Eh sì. Venga. Venga. Venga.